Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. L'obiettivo di questo video è cercare di fornirvi quali sono i concetti chiave, molto ad alto livello soprattutto, per iniziare a comprendere un pochino meglio qual è il contesto della blockchain. È da circa due anni che lo sto studiando, senza ancora esserne venuto a capo, proprio perché è un mondo talmente ampio che comprende uno spettro di competenze assurdo, se vogliamo, proprio perché ci sono elementi di teoria dei giochi, di matematica, informatica, economia e tutti questi vanno a intrecciarsi insieme in modo davvero sinergico e quindi è difficile essere estremamente competente in ciascuno di questi settori. Però la cosa davvero stimolante è che ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo, almeno dal mio punto di vista, e quantomeno anche comprendere il mondo in cui ci troviamo. Ad esempio, non so, magari studiando Bitcoin si può iniziare a comprendere qual è lo scopo della politica monetaria, giusto per fare un esempio. Comunque, sono affacciato da questo mondo da circa due anni, come stavo dicendo, però è da settembre che mi ci sono dedicato a tempo pieno e sto conseguendo due certificazioni, una è la Pioneer Program di Cardano, l'altra invece è rilasciata da un altro ente che si chiama Emiorgo, che comunque è un partner sempre di Cardano. Quindi il mio scopo è quello, insomma, di andare a sviluppare smart contract su blockchain Cardano, che è quella per la quale in questo momento credo di più, anche se poi non voglio assolutamente i fatti, poi mi danno un po' contro, nel senso che comunque Ethereum è quella con il maggior network effect attualmente. Però la mia è, insomma, una scommessa sul futuro. Comunque, detto questo, adesso voglio lasciare spazio alla presentazione che vi va a illustrare quali sono i concetti principali. e vi consiglio, per comprendere meglio la presentazione che seguirà, di andare a recuperare un mio video precedente che parla della crittografia. E questo vi darà comunque una base per comprendere meglio quali sono le funzioni di hash, la firma digitale, chiavi simmetriche e chiavi asimmetrica. Va bene? Partiamo con la presentazione. Grazie mille. Mi piace cominciare la presentazione da questa immagine che si rifà più o meno alla pagina di un libro che ho letto sulla Tokenomics, che magari vi metto in sovraimpressione perché è scritto davvero bene, molto interessante, dove comunque si cerca di rappresentare il fatto che la blockchain non è solo scambio di valore tramite monete, non è solo il prezzo di bitcoin, ma è anche un modo di andare a interpretare la società diversamente. Infatti, se andiamo a vedere sulla sinistra, abbiamo la rappresentazione di un'organizzazione centralizzata e tradizionale, potrebbe essere un'impresa, potrebbe essere un governo, dove comunque abbiamo sempre un vertice della piramide, dove c'è comunque il top management, c'è un CEO, c'è un presidente del consiglio per fare un altro esempio, e dove, diciamo, la parte bassa della piramide va sempre a subire, diciamo, gli effetti, le decisioni dei vertici, portando con sé una sorta di asimmetria di informazioni. Infatti, se immaginiamo in questa piramide una persona che è collocata a livello dello staff, di sicuro non ha una visione d'insieme come quella del top management, ad esempio. Sulla destra, invece, andiamo a vedere un tipo di organizzazione a grafo e flat, come potrebbe essere un'organizzazione decentralizzata, dove comunque abbiamo diverse entità. Queste sono solitamente, appunto, i nodi validatori, sono semplicemente il software della blockchain che viene eseguito sui nodi. Abbiamo gli sviluppatori, sono quelli che si occupano degli aggiornamenti e della manutenzione del codice, abbiamo gli utenti che vanno a effettuare gli scambi e comunque vanno a interagire con la blockchain stessa e poi abbiamo gli exchange, dove appunto si vanno a eseguire operazioni di scambio, eventualmente, fra i vari token. Quindi possiamo facilmente notare che nell'immagine di destra, a differenza dell'immagine di sinistra, gli utenti hanno tutti esattamente lo stesso ruolo gerarchico, senza la classica struttura a piramide. In questa slide, invece, cominciamo ad addentrarci un po' più in profondità nel funzionamento della blockchain e quindi andiamo a cercare di capire cosa sono i nodi e cosa fanno. I nodi non sono nient'altro che gli esecutori del codice della blockchain stessa. Ogni nodo replica l'intero stato della blockchain, ovviamente se è un full node. E cosa fanno questi nodi? Non fanno nient'altro che andare a ricevere delle transazioni, andarle a impacchettare e cercare di fare una proposta di nuovo blocco da aggiungere alla blockchain. Una volta che questo blocco è stato validato, anche dagli altri nodi, questo viene effettivamente aggiunto alla blockchain e tutti gli altri nodi andranno a replicarlo fondamentalmente. Il modo in cui questo blocco viene validato è mediante appunto un algoritmo di consenso che può avere forme diverse a seconda della tecnologia della blockchain stessa. Ad esempio, l'algoritmo di consenso di bitcoin non è nient'altro che un algoritmo criptografico che insomma genera un certo effort di lavoro e quando questo viene compiuto per ottenere una particolare chiave di hash allora il blocco, il nodo scusate, è autorizzato a pubblicare il blocco con tutta una serie di transazioni. Questo ad esempio è necessario proprio perché consente di mettere una sorta di filtro all'ingresso nella pubblicazione di informazioni sulla blockchain. Infatti, se uno volesse comunque cercare di pubblicare delle informazioni malevole sulla blockchain, dovrebbe comunque eseguire un effort non banale, quindi spendere un sacco di soldi per avere delle macchine che permettono di avere quella potenza di calcolo, quando in realtà per poi farsi comunque tagliare il blocco, cioè non far solo ammettere. Quindi in questo caso per un miner è molto più conveniente lavorare a favore della blockchain stessa cercando di portarsi a casa la reward che non insomma lavorare contro la blockchain stessa. E altro punto che mi interesserebbe toccare è quello che comunque va a definire la resilienza della blockchain. Infatti, possiamo vedere che tutti i nodi sono interconnessi tra loro come si può vedere dall'immagine. Questo va a rappresentare che se anche un nodo andasse offline o venisse tagliato la blockchain potrebbe comunque andare avanti a operare senza che i dati ne venissero compromessi. Possiamo fare anche un esempio concreto se consideriamo che qualche mese fa in agosto quando c'è stato il ban della Cina per i miner l'ash rate cioè la potenza di calcolo della rete i nodi sono stati drasticamente tagliati e comunque la rete bitcoin ha continuato a funzionare tranquillamente senza esserne compromesso ovviamente. Nell'immagine successiva andiamo a vedere che una volta che il nodo che prima era rappresentato in rosso viene accettato da tutti gli altri questo viene effettivamente replicato e a quel punto il gioco ricomincia nel senso che ci sarà un altro nodo che impacchetterà un'altra serie di transazioni e una volta che sarà autorizzato dall'algoritmo di consenso andrà a fare la soproposta alla blockchain stessa. In questa slide invece cerchiamo di capire che cos'è un blocco di una blockchain possiamo considerare un blocco con una struttura dati che si occupa di andare a impacchettare tutta una lista di transazioni quindi potete vedere che in questo caso abbiamo una transazione 1, una transazione 2, una transazione 3 e una transazione 4 successivamente andremo a capire com'è strutturata una transazione oltre all'elenco delle transazioni ci sono altri due campi chiave all'interno di un blocco il primo è il blocco relativo all'hash del blocco stesso la funzione di hash non è nient'altro una funzione che prende in input un oggetto informatico potrebbe essere un documento di testo un'immagine un pdf comunque qualunque oggetto che abbia una rappresentazione binaria e restituisce una stringa binaria a lunghezza fissa nel caso dell'algoritmo di hash SHA256 restituisce un output ad esempio di 256 bit la cosa particolare è che questa sequenza di bit è pressoché univoca quindi anche quando venisse modificato un singolo carattere all'interno del documento di input il codice hash che ne risulterebbe sarebbe totalmente differente e questo ci è molto utile per andare a linkare la sequenza di blocchi infatti possiamo vedere che esiste l'altro campo quindi hash prep block in quel caso non è nient'altro che il puntamento all'hash del blocco precedente e quindi abbiamo capito bene che così facendo si possono andare a linkare tutta una serie di blocchi in successione il vantaggio dell'adottare una soluzione di questo tipo è che la modifica posteriore di una qualche transazione all'interno della blockchain invaliderebbe tutta la sequenza di codici hash e quindi questo rende molto più difficile il tampering della blockchain per non dire impossibile appunto non ci resta altro che descrivere che cosa sono le transazioni contenute all'interno di un blocco in questo caso si prende come riferimento lo standard UTXO che è ad esempio usato da bitcoin e da cardano e la transazione non è altro che un record che appunto va a descrivere la transazione stessa questo definito da un ID da una serie di input che possono essere N e da una serie di output per capire meglio come funzionano le transazioni UTXO mi aiuto con un'altra slide questa tra l'altro è una slide che sarà protagonista anche di un video successivo per presentare proprio un esempio concreto di transazione su un nodo cardano comunque si può prendere come esempio generale per spiegare come funzionano le transazioni ci andiamo a posizionare in questo caso nella transazione B che è identificata come TX1 fra un cardano wallet in questo caso noi avremo già 1000 ADA disponibili sul wallet come ADA non spesi e a quel punto cosa faremo prenderemo questi ADA come input e sceglieremo di inviarne 100 a un indirizzo di Daedalus cioè a un altro wallet 200 a altri 200 ADA a un altro indirizzo e a quel punto vedremo che la terza transazione di output in realtà resterà con meno spesa ma sul wallet originario quindi cosa succede andiamo a spendere in totale 300 ADA e poi il resto di 700 ADA meno le fee ovviamente di transazione vanno a tornare sul wallet principale infatti la sigla UTXO sta per unspend transaction output quindi cosa significa significa che quando vengono ricevuti dei fondi su un wallet quei fondi sono unspend e possono essere utilizzati come input per un'altra transazione che a sua volta produrrà degli output che a loro volta saranno unspend pronti per essere spesi nella transazione successiva per concludere andiamo a parlare dell'ultimo argomento che sono le chiavi criptografiche i sistemi blockchain utilizzano un meccanismo a chiavi asimmetriche dove ovviamente c'è una chiave privata e una chiave pubblica per capire meglio cosa sono le chiavi simmetriche e le chiavi asimmetriche come sempre vi invito ad andare a vedere un mio video precedente sulle basi della criptografia comunque qui andiamo a cercare di spiegare cosa sono queste differenti entità appunto nel contesto della blockchain innanzitutto abbiamo la chiave privata che come dice il nome stesso deve essere privata e riservato al solo utilizzo dal possessore dei fondi attraverso un meccanismo criptografico che viene detto elliptic curve è possibile generare a partire dalla chiave privata tutta una serie di chiavi pubbliche le chiavi pubbliche come dice il nome quindi possono essere condivise con con tutto il mondo e sempre a partire dalle chiavi pubbliche possono essere generati a sua volta gli indirizzi gli indirizzi sono quelli che vengono scambiati appunto per andare a ricevere dei fondi come rappresentato dall'immagine questo meccanismo diciamo è senso unico quindi a partire dalla chiave privata ottengo la chiave pubblica a partire dall'indirizzo da partire dalla chiave pubblica ottengo l'indirizzo non è possibile fare il contrario quindi dall'indirizzo risalire alla chiave pubblica e dalla chiave pubblica risalire alla chiave privata quindi come abbiamo già detto l'indirizzo serve a ricevere i fondi la chiave privata invece serve a firmare le transazioni e quindi se ritorniamo la slide precedente permette di andare a dimostrare a tutta la blockchain che effettivamente si è in possesso attraverso la firma della chiave privata e quindi il diritto a utilizzare i propri fondi quindi questo funziona perché appunto attraverso il meccanismo di firma con la chiave privata poi attraverso la chiave pubblica si può dimostrare che appunto quella transazione è stata firmata esattamente dal possessore della chiave pubblica anche questo è un concetto che viene spiegato un pochino meglio e in modo più intuitivo nel video dedicato alla criptografia comunque i concetti di base sono che la chiave privata permette di firmare le transazioni e quindi di accedere i propri fondi mentre attraverso la chiave pubblica si va a generare l'indirizzo che serve appunto a ricevere i fondi quindi chiave privata inviare i fondi indirizzo ricevere i fondi dedico una pagina sui consigli per conservare al meglio i crypto asset quindi come abbiamo già detto se si perde la chiave privata si perde il diritto all'accesso dei propri fondi proprio perché non si possono firmare le transazioni quindi non si può dimostrare che siamo effettivamente noi proprietari di quei fondi in più se qualcuno allo stesso modo ci va a rubare la nostra chiave privata può dimostrare che lui è il proprietario dei nostri fondi e quindi ce li può sostanzialmente rubare quindi le soluzioni quali sono la prima che è quella più semplice è quella di lasciare i propri fondi su un exchange in questo caso un exchange centralizzato scusate e quindi in questo caso sarà l'exchange stesso che gestirà in nostra vece le chiavi private questo però ci espone ad alcuni rischi il primo è che se l'exchange fallisce o è fraudolento ci può rubare i nostri fondi il secondo è che se venisse comunque hackerato qualcuno ci può rubare allo stesso modo i nostri fondi il secondo è quello di usare un hot wallet cioè un software installato sul nostro computer che appunto ci gestisce le chiavi private e le chiavi pubbliche questo però è rischioso perché comunque il computer verosimilmente può essere sempre online quindi potremmo subire un attacco hacker potremmo incontrare un virus sul computer che in qualche modo ci farà perdere l'accesso ai nostri chiavi private quindi le due soluzioni ottimali sono quelle di usare un cold wallet in questo caso c'è anche nell'immagine un ledger un treasure ce ne sono anche di altre marche questo sono un buon compromesso di sicurezza proprio perché le chiavi private uno possono essere ricostruite in caso di danneggiamento del dispositivo attraverso una serie di word e in secondo luogo il dispositivo appunto è sempre sconnesso dalla rete quindi lo andremo a collegare solo quando ci interesserà andare a firmare una transazione il rischio in questo caso è che il fabbricatore del dispositivo possa aver installato una sorta di backdoor nel chip di sicurezza e quindi andarci volendo a rubare i fondi in qualche modo magari andando a ricostruire in qualche modo le chiavi private degli utenti questa comunque è più una paranoia che un rischio soprattutto quando si parla di ledger o di tracer almeno per il momento mentre la soluzione quella sicuramente è considerata da tutti più sicura è l'utilizzo dei paper wallet quindi sono semplicemente dei fogli di carta dove sia rappresentata la chiave pubblica sia la chiave privata e quindi si possono utilizzare come delle vere e proprie banconote quindi immaginiamo di avere l'equivalente di 100 dollari in criptovalute su un paper wallet e quindi questo volendo potrebbe essere scambiato al portatore come esattamente una banconota volendo naturalmente in questo caso è decisamente più complicato andarsi a generare i propri paper wallet e comunque non hanno la stessa rapidità di utilizzo di un cold wallet come un ledger ad esempio va bene io ho finito la mia panoramica ho cercato di naturalmente non è una panoramica esaustiva per definizione uno perché ho ancora tantissime cose da imparare sempre più a fondo e più a basso livello e il secondo è che comunque non basterebbe un video di una giornata per andare a spiegare tutti i concetti proprio lo scopo di questo era riassumere insomma tutte le cose che dal mio punto di vista sono vasilari per iniziare appunto a comprendere e addentrarsi in questo mondo se mi avete seguito fin qui vi ringrazio come sempre e ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti